Due giorni, 7 e 8 aprile, con l'azienda Diazen di Diego Mingarelli che ha portato nelle marche 60 architetti da tutta Italia per ragionare e far vedere la casa del futuro, un luogo da vivere declinato ai temi del benessere e della sostenibilità dal punto di vista dei materiali, delle soluzioni e delle certificazioni. Siamo a Sassoferrato dove sorge questa significativa realtà imprenditoriale di primo piano nel mondo della chimica green per l'edilizia. Volevamo ritornare in presenza, volevamo far conoscere le nostre meravigliose marche e la nostra tecnologia che nasce nel nostro stabilimento con tanti ragazzi che si mettono lì e lavorano nella nostra realtà per sviluppare nuova tecnologia nel mondo delle costruzioni e dell'architettura. E allora abbiamo condiviso queste due giorni con il mondo della progettazione, architetti, ingegneri che sono venuti da tutta Italia. Parleremo della sostenibilità, quindi di questo approccio ecologico che cambierà fortemente il mondo delle costruzioni future di cui noi siamo una perfetta interpretazione ma parleremo anche del comfort. Il comfort abbiamo scoperto con il Covid quanto è importante scegliere i materiali che conferiscono benessere alle nostre case e quindi con le università del territorio con tanti partner scientifici studieremo questi temi e noi aspiriamo ad essere una perfetta sintesi di questi temi che sono i temi che rivoluzionano l'edilizia del futuro. L'azienda, nata nel 2000, è specializzata nella produzione di biomalte e pitture naturali per il comfort abitativo, capaci di soddisfare qualsiasi bisogno di benessere termico, acustico nelle abitazioni e negli edifici. La casa del futuro, che cosa deve avere? Quali sono le caratteristiche principali? Principalmente tre. Deve essere sostenibile, deve essere una casa che guarda le nuove generazioni, che consente di non impattare, di non impattare sull'ambiente, sulle risorse che abbiamo, ma la casa del futuro deve consumare poco, ce ne stiamo accorgendo, no? E quindi c'è una nuova frontiera del mondo dell'isolamento sostenibile e termico che può consentire alle nostre abitazioni di essere belle, ben fatte e che consumino poco. E poi c'è questa nuova frontiera del comfort, la qualità dell'aria, la qualità dei materiali che consente di evitare e prevenire tutti quei problemi delle case, l'umidità, la muffa, la condensa e che ci consentono di vivere bene le nostre case che oggi sono diventate veramente il nostro centro di vita. Per qualcuno con il Covid è diventata anche l'ufficio, la scuola e quindi oggi noi con queste tecnologie vogliamo raccontare ed esprimere quella che è la nostra idea della casa del futuro. Le soluzioni di IASEN sono caratterizzate dall'uso di materie prime inorganiche e naturali, a partire dalla corteccia di sughero. Tutti noi conosciamo quando apriamo una bottiglia di vino, quel tappo, quel tappo che consente a quel vino di rimanere conservato, di maturarsi. Ecco, noi facciamo la stessa cosa sulle abitazioni, noi prendiamo lo scarto di sughero, ma che poi scarto non è, quindi quando si parla di economia circolare siamo un esempio, e qui nel nostro stabilimento di sasso ferrato lo maciniamo e andiamo a mettere tutto in prodotti nostri prevettati. A quel punto, sulle abitazioni, questo sughero conferisce isolamento termico, conferisce fonoassorbimento, conferisce insalamento di umidità. Il sughero è una materia straordinaria che si rigenera ogni dieci anni, che si trova soltanto nel nostro mar Mediterraneo e che quindi è la perfetta espressione di ecologia, ma anche della capacità di attattarsi a un clima, che è quello nostro, che deve proteggere dal freddo ma anche dal caldo. E quindi per noi non è soltanto una scelta di tecnologia, ma una scelta di identità. L'azienda è molto attiva e impegnata nell'attuazione di politiche ispirate dai principi dell'economia circolare e di una sostenibilità vissuta sia in termini ambientali che sociali. Diasen è un'azienda B Corp dal 2017 e società Benefit dal settembre 2020. Una scelta di differenziazione che consente a Diasen di esprimere una forte identità e una rilevante proiezione globale. Da una parte il profondo radicamento territoriale, dall'altra la capacità di competere con successo sui mercati internazionali, essendo presente nei grandi mercati europei, ma anche in Nord America e in Medio Oriente. Ha detto il legame con il territorio, questa è un'impresa che è cresciuta negli anni, ma fortemente legata alle marche, marche che voi volete anche far conoscere di più e meglio. Siamo circondati di bellezza, bellezza del territorio, bellezza delle città che abitiamo e bellezza anche delle persone, siamo una terra di lavoro, una terra di sacrifici, di sudore. E quindi noi in questi due giorni andremo anche in giro nelle nostre città, vedendo quanto l'architettura dei tempi che furono interpretava bene tutte queste caratteristiche. Siamo orgogliosi di essere un'azienda dell'entroterra marchigiano, composta da ragazzi con un'età media di 32 anni, tutti la stragrande maggioranza del territorio, che con sacrificio, con lavoro e con l'intelligenza e la creatività sta conquistando pezzi d'Italia e pezzi di mondo grazie alla nostra creatività tutta marchigiana e fabrianese. Diasen ha voluto parlare di innovazione 3D, dei nuovi orizzonti del costruire mediterraneo, di comfort e bellezza, elementi che catturano l'interesse dei tecnici e di chi sta già lavorando con Diasen. Luigi Tizzani, project manager Lux Home Holding, come riescono ad applicarsi questi concetti, anche una certa filosofia che Diasen propone ai clienti, ai contatti, alle realtà in maniera pratica, innovativa. Noi abbiamo sposato appieno la filosofia del comfort della Diasen, non solo da uno punto di vista materico, ma proprio di filosofia d'azienda e abbiamo provato ad estendere questi concetti nell'ambito della progettualità che noi espritiamo per la nostra committenza. Abbiamo evoluto in qualche modo il concetto Nirli Zero Energy Building o Passive House, nati nel nord Europa e basandoci su quel concetto abbiamo esteso al comfort abitativo mediterraneo, applicando i prodotti Diasen, proprio la filosofia del costruire mediterraneo. Di fatto noi non abbiamo inventato nulla, basta semplicemente studiare molto bene la storia di quali erano le tecniche costruttive e chiamiamole di isolamento che si utilizzavano nelle nostre zone mediterranee. le corte, i portici, le finestre piccole sulle zone calde, le finestre più ampie, le ventilazioni. Quindi di fatto abbiamo esteso questo concetto del comfort anche alla progettualità. Attualmente stiamo lavorando molto in Sicilia dove abbiamo trovato proseliti proprio con questa nostra filosofia. Stiamo progettando due parchi residenziali assolutamente zero energy building dove abbiamo anche previsto il recupero integrale delle acque. Quindi ci siamo spinti molto oltre. Quindi dei nuovi concetti costruttivi e l'altro parco invece è un semi-ipogeo addirittura, quindi una casa a metà sottoterra per rinfrescare ancora di più le zone calde visto che ci troviamo in provincia di Siriacusa, Davola per la precisione. Quindi questo noi applichiamo sui nostri lavori con un investimento notevole fatto prima di tempo, finanze e professionalità. Però poi alla fine il concetto del dottor Mingarelli di Diasen che la qualità premia, la stiamo provando anche sulla nostra pelle con grandi soddisfazioni prima di tutto dal punto di vista professionale e poi anche quello economico che non guasta mai. Tra gli ospiti partecipanti di queste due giorni Salvatore Valastro, architetto, arrivi dalla provincia di Catania. Quindi precisamente... Acitrezza. Un architetto che arriva a Diasen perché? A me piace tantissimo cercare, ricercare prodotti oltre ad essere naturali ma anche che siano proprio della nostra terra perché noi in Italia abbiamo tutto quello che ci serve non ci serve nient'altro. Non solo, ma avevo sempre sentito parlare del sughero spruzzato ma questa invece innovazione che porta a Diasen è una cosa ancora più innovativa perché appunto mescola quello che è il sughero granulometrie ma anche la calce e l'argilla che è come si è sempre costruito, come costruivano gli antichi romani. È un materiale vivo, adesso in Italia soprattutto con i bonus che si parla tantissimo di coibentare la casa, di isolarla però non è solo isolarla e arrivare all'indice che ti chiede la legge ma è proprio farlo con un criterio se puoi, in questo caso naturale quindi scegliere invece di un materiale plastico metterlo in facciata e quindi stare a casa e respirare plastica ma respirare calce, respirare sughero, respirare elementi naturali, vivi sono vivi anche perché io personalmente ho visto quando viene spruzzato questo Diasen tocchi la parete e ti sembra ancora elastica quasi no, proprio col tempo è questa la sua forza pura diventa sempre più resistente come sono stati fatti tutti i manufatti che noi vediamo ancora abbiamo dopo 2000 anni sono rimasti proprio col tempo acquisiscono questa resistenza sempre più forte una cosa è isolare l'intero edificio con un materiale plastico invece un'altra cosa è farlo con un materiale come quello che Diasen stanno dietro tutto quello che per me è importante ovvero il comfort, l'innovazione dei materiali e materiali naturali io sono completamente allineato con l'ore sono felicissimo infatti di essere qua oggi grazie